Il paesaggio costiero dei Maronti è stato recentemente scosso da un evento che ha sollevato seri timori per la sicurezza pubblica e privata. Un'ispezione condotta dal Comune ha rilevato una situazione critica lungo il costone adiacente all'arenile dei Maronti, con ripercussioni significative sul fabbricato circostante e sull'area sottostante. Secondo la relazione tecnica, redatta in seguito alle avverse condizioni meteorologiche delle settimane precedenti e ai violenti marosi, è stato individuato un tratto franato del costone, con il rischio imminente di cedimento del fabbricato di proprietà di privati. Questo cedimento, che minaccia la stabilità del versante sud, è stato identificato catastalmente. Di fronte a questa emergenza, il Comune di Barano d'Ischia ha emesso una serie di provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori dei Maronti. Innanzitutto è stata disposta l'interdizione dell'area sottostante al costone franato e del fabbricato pericolante, come indicato nella relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il privato è stato inoltre incaricato di prendere immediatamente provvedimenti per la messa in sicurezza e il ripristino del costone e del fabbricato, previa richiesta dei necessari titoli abilitativi in conformità al vigente regolamento comunale. Questi interventi devono essere eseguiti nel minor tempo possibile per evitare ulteriori rischi per la pubblica e privata incolumità.